Ciao amici, ciao amiche, ben ritrovati sul canale di coppia, Davide Chiara Channel Oggi nuovo video spesa fatto da MD, adesso facciamo il solito fermo immagine e via con la spesa Allora siamo andati a spendere 79 euro e 92 centesimi, adesso iniziamo col fermo immagine dello scontreno Bene, allora della marca Carraro abbiamo preso le cialde compatibili con la Nescafè Dolce Gusto Allora abbiamo preso due decaffeinati, uno in caffè espresso normale e un cappuccino per la mattina Poi marca Natura Lieve, abbiamo preso la solita busta da 125 grammi della famosissima e buonissima rucola Questa qua è buona da metterle nelle piadine E' da mangiare così O da mangiare come se fosse insalata e pomodori Poi dell'aia abbiamo preso i nuggets 230 grammi e questi qua sono veramente eccezionali 100% prodotto carne italiana Questi qua sono veramente ottimi Poi un prezzo straordinario di 4 euro e 99 Una bella padella antiaderente e con questa qua ci possiamo fare cuocere tante verdure, pollo Questa qua è veramente grande, è un diametro di 34, alta 8 cm come potete vedere Qua si possono saltare gli spaghetti, fare delle verdure Soprattutto quello che ho fatto la sorella qua, è ottimo veramente farle Insomma per 4 euro e 99 Ottimo veramente Ottimo prezzo e ottima padella MD regala sempre soddisfazione Sempre dell'aia abbiamo preso i bone roll agli spinaci Un prezzo stracciato perché 4 euro e 99 Ci sono 750 grammi di bone roll Questo qua fatto al forno Anche questo è buono agli spinaci Poi sempre marca Aya bone roll a fette Questo è alla pizzaiola Scontato di 40% Pagato 3 euro e 58 a bone roll E anche questo è molto buono Poi della marca Flau abbiamo preso i soliti 100 bicchierini da caffè Che questi sono molto utili Abbiamo preso anche i cucchiaini Abbiamo fatto la scorta, sono 100 pezzi Sempre marca Flau Marcello Flau Abbiamo preso questi sono 50 piatti Sì 50 piatti fondi No piani Sono 50 piatti piani E questi qua vanno benissimo anche da mettere sia nel forno a microonde che nel forno normale No microonde E questi qua vanno benissimo da mettere nel forno a microonde Infatti sono veramente ottimi e costano un ambiente E ragazzi provate a tagliarli con un coltello Vedete che non si spaccano sono veramente resistenti E poi infine sempre della Flau Abbiamo preso i bicchieri 200 bicchieri No 200 cc 80 Abbiamo preso 80 bicchieri Marca Flau E anche questi qua sono resistenti rispetto agli altri bicchieri di plastica classici Troviamo bene dammelli E poi Chiara ha voluto prendere questi piatti Anche questi qua della Flau li ha voluti prendere perché Guarda qua cosa dice microonde Microonde più 120 gradi Si possono anche rilavare Insomma questi qua sono Anche questi sono resistenti Però vedi fa vedere il simbolo che si lava Penso che sia questo Li ha voluti prendere per l'epifania Per le occasioni Due ore a 70 gradi E un'ora a 120 gradi arrivano Però questi qua si possono anche riutilizzare Ovviamente noi non li riutilizziamo Sono di plastica alla fine Questi qua li ho presi perché sono quelli comodi Che si usano per le feste Le cose per metterci le cose da impiattare E questa è una marca ovale E' molto carina che da presentare Quindi niente Abbiamo preso questi qua Marcello Frau International Corporation Ha fatto di tutto Poi Chiara ha preso la tinta Colorante Quella nera Quella nera stavolta ha preso Si e il nero è 1.0 nero Perché ovviamente lascio Scaricare ancora questo colore che ho E poi c'ho questa Almeno ce l'ho già in casa Perché mi sono andata benissimo con questa tinta Poi andrò a fare l'olaplex Quindi ma già così sono comunque Sani i miei capelli Però vado a fare ancora un olaplex Top Quando farò la tinta vi farò il video Poi abbiamo appreso 6 ciambelle Le classiche, le solite Pagate Appena 2,49 94 E 2,94 E 2,94 E 2,94 Sono così Sono molto buoni questi 1,59 A pacco Poi c'è la lemon soda Che era in offerta E ne abbiamo preso le 4 E infine lo zucchero 59 centesimi di 1 59 centesimi di 1 Sorgogliamone Sorgogliamone dettagli Poi abbiamo preso Sempre marca Marcello Frau No, Flau Ma per noi è Frau 250 tovaglioli E infine come ultimo prodotto Marcello Per la nonnina Che ha bisogno Di questo rotulone qua Di tovaglioli Sono 1 per 8 Quanti strappi sono Sono 8 metri Se dice 1 per 8 Sì Sono 8 metri Ma gli strappi Non so quanti sono Comunque È resistente come carta Perché l'ha già provata C'è tantissima Niente Bene amici Io concludo questo video Fatto da MD Spero che vi sia piaciuto Abbiate preso spunto Da questi prodotti E articoli E io ringrazio Come sempre Iscritti di sempre Nuovi iscritti Mi raccomando Iscrivetevi al canale Di coppia Davide Chiara Channel Al canale Chiara D'Alessandro Al canale Chiara D'Alessandro ASMR Al canale Al canale Del Tarallo Blues Channel Al canale Del Contabile Su Instagram Rita Faiola E a tutti quanti Che in questo momento Non mi vengono in mente Io vi ringrazio Moments of Youtube Ecco Maurizio Capasso Ah Maurizio Capasso Io E Stefano Carottino O Stefano Carottino O Stefano Red E anche da Follettina Follettina Cresce E oggi c'è un video toffo Bene Io vi ringrazio a tutti Vi auguro una buona giornata Un bacione Il solito Ia E ciao Allora ragazzi miei Non vedo l'ora che sti K di buono mia Mamma mia che brutti Lugorroici Volevo ricordarvi una cosa Che il nostro caro Blues Channel Detto il Tarallo Perché è un Tarallo Da quando ci ha fatto scoprire Giù al suo paese M.D. Mia moglie Praticamente Quando bisogna fare la spesa Oltre che all'S.Lunga Vuole andare da M.D. Ma spero che dal 7 Da M.D. Non si vada più Perché noi andavamo Soprattutto anche per le schifezze Lo ammettiamo senza vergogna Perché sapevamo comunque Eravamo sotto Natale Quindi ci siamo rimpiazzati Di schifezze a tutto andare Rimpinzati di schifezze a tutto andare E non vale neanche la pena Andare fino alla per le cialde Comunque Daniele il Tarallo Ci ha fatto scoprire un posto Che è un posto Che comunque Con 100 euro Si fa una bella spesuccia La roba non è Non è cattiva La roba è buona Non c'è solo roba porcellosa Perché comunque C'è È un supermercato piccolino Comunque niente Grazie Daniele Per questa scoperta fantastica Vaga Allora ho preso io le rating del video Volevo dirvi Se sul mio canale Blues Channel Arriviamo a 2000 iscritti Chiara eccola Facciami fa la tinta In live E poi Vedrete il colore tutto Mi raccomando raga Iscrivetevi al mio canale Iscrivetevi al canale di coppia Al canale di Aldo Alessandro E chi è Aldo Alessandro ASMR Noi ci vediamo in un nuovo video E ciao a tutti raga